Buongiorno, buongiorno e buon martedì 5 maggio, 5 maggio 2002. Il Milan conquista l'aritmetica ha certezza di poter giocare i preliminari di Champions League. Al termine di un meraviglioso inseguimento, il Milan aveva perso male a Bologna, sembrava tutto finito, poi in anella dei risultati splendidi e grazie al gol di Pirlo che realizza la rete della vittoria a Verona si porta in quarta posizione e mantenuta poi con la vittoria sul Lecce. Una domenica indimenticabile, era arrivato qualche mese prima Carlo Ancelotti, il Milan in 2002 giocherà poi i preliminari e vincerà passandoli, poi alla fine vincerà la Champions League di Manchester. Il gol Calazze che raccoglie una punizione di Pirlo, poi segna Ambrosini di testa e chiude ancora il gol Shevchenko raccogliendo un tiro praticamente a mezzo metro dalla porta vuota dopo il tiro di Inzaghi, Shevchenko realizza la rete del 3-0. 5 maggio 2002 il Milan va ai preliminari. E veniamo all'attualità. Oggi questa mattina vogliamo parlare di un giocatore di cui abbiamo già parlato. Ieri intanto era venuta la voce di Mertens, io ho sentito anche Londra, mi hanno detto non caricare di molta fiducia su questo acquisto. È una risposta che non mi ha sorpreso perché Mertens è un giocatore dall'ingaggio molto caro, si dice voce che l'Inter dove dovrebbe voce andare. Potrebbe prendere anche 5 milioni, 5 milioni e mezzo di ingaggio fuori dalla portata del Milan per un giocatore molto bravo, un giocatore fra i migliori in campo europeo ma sempre di 32 anni. Quindi sono altre strategie del Milan. E qui mi proietto a ribadire un nome che vi abbiamo fatto qualche tempo fa. Ma ieri un intermediario a un procuratore ha parlato con gli amici di Milan News che riportano appunto la notizia che Shoboshlai, il giocatore ungherese, potrebbe essere un vero, vero obiettivo del Milan. Ribadisco dunque l'interessamento per questo giocatore. Bisogna un giocatore che interessa anche ad altre squadre. Però essendo del pianeta Red Bull io penso proprio che se dovesse arrivare Ragnik come biglietto, anzi come regalo si porterebbe questo giocatore che del resto lui conosce benissimo. Il costo non è proibitivo dai 15 ai 20 milioni di euro per un ragazzo di 20 anni che però ha già esperienza, ha già giocato in Europa League. Non è un giocatore che viene qua per partire dalla panchina. No, Shoboshlai è un giocatore che si viene qua, gioca titolare per la personalità, ve ne ho già parlato bene. Quindi dato che c'è questa novità ieri di uno Shoboshlai che veramente sembra interessare ai alla dirigenza del Milan, ritorno ancora. Mentre secondo me Mertens è un giocatore un po' lontano dai parametri, dai prospetti del fondo Elliot, Shoboshlai invece lo riempie perfettamente questo prospetto, questa figura splendida. Quindi questa la notizia che vi volevo dare e poi anche notizie concrete. Il Milan comincerà in varie cliniche di Milano questi screening per capire la situazione dei giocatori e si dice intorno a sabato nel weekend potrebbero cominciare gli allenamenti sempre individuali, sempre che tutto vada bene a Milanello. In attesa che torni che sì, che fa fatica a tornare in Europa e in attesa che torni Ibrahimovic. Per oggi non dovrebbe essere ancora annunciato, vediamo. È questione di giorni, vorrà forse capire ancora di più se ci siano problemi e poi come gli altri giocatori che arrivano dall'estero i 14 giorni di quarantena. Non si sa ancora quando arrivi Ibra ma è questione ormai di ore, di un giorno forse, non lo so. Però intanto oggi i giocatori incominceranno tra oggi e domani a effettuare le visite, questi screening importanti in questa situazione è difficile in varie cliniche milanesi perché non possono andare in 25 tutti nella stessa clinica. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrani.